Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e tra Montelupo ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze, spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord ed Aglio, in direzione Roma, rallentamenti per lavori tra albibio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Nord. Sulla statale due via Cassi ha provvisoriamente chiuso il tratto tra i chilometri 203 e 203 e 100 nei pressi di Buonconvento in provincia di Siena a causa di una frana. Sul raccordo Siena-Bettolle rallentamenti tra Casetta-Monteferti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!